Blackout, allagamenti, caduta di rami e piante pericolanti. Sono alcuni dei disagi segnalati dai cittadini della provincia pesarese che si sono verificati nella serata di ieri a causa del maltempo intercorso in diversi comuni del territorio. Partendo proprio dal pesarese, come testimoniano alcune immagini caricate sui social, in località Santa Maria dell'Arzilla per la forte pioggia, il manto stradale di Via Ferriera che attraversa la frazione abitata è stato ricoperto dal fango. Situazione non troppo diversa a Tavullia. Anche qui, infatti, alcune strade sono state investite dall'acqua. Mentre lungo le siligate in direzione Gabicce, la circolazione e il traffico sono stati interrotti e poi spostati su un'unica carreggiata per permettere la rimozione del terreno franato a causa del nubifragio. Sempre inserata nel comune di Sant'Ippolito, la strada provinciale 41, al chilometro numero 13, è stata temporaneamente chiusa per il crollo di alcune piante pericolanti lungo l'asse stradale. Mentre poteva avere conseguenze davvero serie, l'episodio che si è verificato a Fossombrone durante la fiera di San Matteo, dove un albero, situato in Via Cairoli, a causa del maltempo si è spezzato. La caduta del tronco ha interessato una bancarella della manifestazione, ma fortunatamente non sono stati segnalati feriti. L'acquazzone di domenica sera si è fatto sentire anche a Fano, allagando il sottopasso della zona Lido e buona parte di Viale Carducci. Il comando pesarese dei Vigili del Fuoco ha fatto sapere che nella sola serata di ieri sono stati condotti 15 interventi per ripristinare le diverse situazioni di disagio generate dal maltempo.